Il ritorno di Matteo Renzi ad Arezzo si accompagna a polemiche, contestazioni e stringenti misure di sicurezza, tanto che l'aria attorno alla casa dell'energia sarà sostanzialmente off-limits. L'ex premier, domenica sera alle 21.15, chiude la festa dell'unità del PD con la presentazione del suo libro Avanti. 500 le persone che potranno accedere all'interno, traffico bloccato per sei ore dalle 18 alle 24 nella zona e numerosi uomini impegnati per la sicurezza, artificiali compresi, coordinati dalla Questura di Arezzo. Rispetto alla sua ultima visita, il grado di popolarità di Renzi ha risentito in terra retina della vicenda Banca Etruia. I risparmiatori traditi, riuniti nelle vittime del salvabanche, hanno già disseminato di striscioni la città e anche domenica, malgrado le stringenti misure di sicurezza, proveranno a far sentire a Renzi la loro voce. Nel frattempo, la festa del PD ha visto sfilare onorevoli, sottosegretari e anche il sindaco di Firenze Nardella con interventi riguardanti le buone competenze per amministrare oggi. Contri pubblici dove si parla di politica ma soprattutto di temi di stretta attualità, dallo sviluppo sostenibile alla cultura, al rapporto tra la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini, fino chiaramente alla presentazione del libro di Renzi. Quindi uno scambio di idee e informazioni. Tutti i cittadini sono invitati, interessati a partecipare per dare suggerimenti, apprezzamenti, critiche, ovviamente attraverso una partecipazione democratica che fa parte della storia e della cultura di questo partito.